Benvenuti a tutti in questo nuovo video, sono TheMaller1996 e in questo video volevo spiegarvi diciamo come si può scaricare l'audio dei video di YouTube, come il programma si può fare. Allora andiamo su video YouTube e cerchiamo un video a carrivole, selezioniamo il video, copriamo perchè non serve e copriamo Plur, dopo andiamo in Plur e scriviamo e clicchiamo questo, lo so, lo incolliamo e facciamo con voi. E questo è l'audio del video, facciamo scarica, ecco qui sta dopo qualche secondo per scaricare, qua, si aprirà una finestra di musica, che programma avete qui per sentire la musica e potrete ascoltare la canzone, e potrete anche un dato per farlo, da mettere nella verità e oppure altre roba. Vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi, a commentare e a pubblicare dei commenti e al prossimo video. Buon anno al prossimo video, ciao! Grazie a tutti.